Buonasera a tutti, apriamo la seduta del Consiglio Comunale, lascio la parola al Segretario Comunale per l'appello. Buonasera a tutti, apriamo la seduta del Consiglio Comunale per l'appello. Buonasera a tutti, apriamo la seduta del Consiglio Comunale per l'appello. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del Decreto Legislativo numero 267-2000, ravvisata l'urgenza di procedere in merito. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Favorevoli? Un'animità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Un'animità. Punto 2. Approvazione documento unico di programmazione DUP 2024-2026. Prego Sindaco Pane. Si sente? Il DUP è ovviamente un documento dove vengono racchiuse tutta una serie di dati, fattori, valori che fanno un po' la fotografia di quello che è lo stato della città, della popolazione, l'andamento demografico. Ha avuto tutta una serie di valori e di dati, IVI compreso anche una serie di indici che sono poi importanti al fine di fare le corrette valutazioni in termini di quelli che sono i margini di manovra che si possono avere anche poi sul bilancio. Ed è anche il documento che detta un pochettino quella che è la linea del prossimo triennio rispetto alle scelte strategiche che si vogliono adottare sia sulla parte corrente che sulla parte investimenti. Un po' come tutti gli enti locali, tutti i comuni delle nostre dimensioni, come si può vedere anche dal DUP, ci sono dei gradi di rigidità che indicano quelle che sono le spese obbligate, quelle che non ti permettono ovviamente di utilizzare delle risorse per altre cose ma perché sono destinate banalmente al costo del personale, alle spese sulle utenze, alle spese legate anche al rimborso dei mutui correttamente. E quindi questo ci dà anche una serie di valori che ci fa capire quello che può essere poi il margine di manovra sulla parte disponibile e che permette poi di destinare le risorse su quelle che possono essere le intenzioni dell'amministrazione. A tutta questa parte variabile in realtà si aggiungono tutta una serie di altri fattori, di altri valori che seppur non rientrano nel calcolo dell'indice di rigidità sono valori e fattori, sono spese comunque bene o male obbligate, penso alle spese di manutenzione per gli immobili o alle manutenzioni sull'arredo urbano, penso alle spese legate al verde, alla pulizia degli immobili, alla pulizia stradale, a tutti gli altri servizi che non rientrano nel calcolo della rigidità ma sono fondamentalmente dei servizi obbligatori che ovviamente bisogna erogare e sui quali non ci sono molti margini di manovra. Ovvio che questi dati col passare del tempo e soprattutto nell'ultimo bienio sono numeri che sono aumentati. Le spese di tutti, dai cittadini alle aziende e anche ovviamente agli enti locali che a differenza di aziende e privati non possono, non hanno diritto a detrazione, non hanno diritto a scaricare nulla, hanno a carico tutto, malattie comprese anche dei dipendenti, l'IVA è un costo quindi non è scaricabile, assorbono tutta l'inflazione, tutto l'aumento dei costi e che quindi vanno a aumentare, questo grado di rigidità rispetto a quelle che poi possono essere appunto i vari margini di manovra. Il documento, il DUP è abbastanza corposo, sono 145 pagine dove appunto c'è la suddivisione poi anche per quelle che sono le missioni, e quindi come sono destinate le risorse rispetto a tutti questi valori, nonostante le premesse che ho fatto prima e anche tutta la parte legata a tariffe e tributi resta invariata, vengono confermate le stesse tariffe e gli stessi tributi come carico verso i cittadini che però come dicevo invece come carico per lente sono costi che si andranno ad aggiungere. Faccio l'esempio più semplice che è quello certamente del servizio mensa, su quale proprio in queste settimane siamo in trattative col concessionario, sul definire un adeguamento del costo basco, conostante appunto le maggiorazioni che loro hanno a carico e quindi comunque considerando il trattato che si è riuscito negli altri, negli scorsi anni, penso le arie economiche che abbiamo potuto farci carico, ovviamente di spese, di spese, di spese per modalità di finanza, di erogazione del servizio ci costerà certamente di più ugualmente e quindi dovrà fiscare appunto una parte che dicevo essere variabile fino a ieri ma chi non lo sa più, non lo sa più e quindi lo facciamo con tutto questo ovviamente senza aumentare le tariffe a nessuno. Tariffe che vengono modificate solo sul servizio dello Squalus che è un servizio che non premede pagamento da parte dei cittadini, quindi non premede pagamento solo da parte dei non residenti. Si passa dai 200 euro annui a 400, se non sbaglio correggimi nel qual caso, 400 euro all'anno di costo, 40 euro al mese perché poi il servizio dello Squalus è su 10 mesi, come dicevo per i non residenti a fronte di un, quindi incassiamo all'incirca 4 mila euro all'anno a fronte di un costo di servizio che è passato dai 46, 47 mila degli altri anni a 54 mila euro da quest'anno, ecco dal servizio che stiamo erogando quest'anno. E quindi come vedete alla fine da questo punto di vista cerchiamo di non toccare, di non andare a intervenire su nessuna delle voci di carico sui cittadini, assorbendo per quanto possibile tutto l'aumento, tutto quello che sono i costi aggiuntivi. Ci sono anche maggiori costi, anticipo poi sicuramente anche una parte che invece è legata al bilancio di previsione, che sono l'adeguamento contrattuale anche dei dipendenti. C'è stato il rinnovo del contratto nazionale nel corso del 2024, avremo da riconoscere non solo l'adeguamento per l'anno in corso, ma anche l'annualità 2023 che giustamente va riconosciuta nel periodo di vacanza contrattuale, è stato definito quello che è l'importo e quindi sul bilancio 24 ci sarà un extra costo, perché è riferito all'anno 2023 che poi andrà a normalizzarsi nel 2025. Sono tante poche migliaia di euro su tutte queste voci che ovviamente comportano un grado di rigidità ulteriore. Nonostante questo riusciamo a mantenere più o meno inalterata la programmazione delle attività e degli interventi che avevamo ipotizzato nel corso del 2024 e come appunto si può vedere anche da tutte le varie sezioni dei capitoli di uscita e mantenendo praticamente invariato il totale sulle entrate, forse anche qualche migliaio di euro in meno. Questo è un po' il quadro generale, ma ovviamente resto a disposizione se ci sono domande specifiche su qualche voce, su altri aspetti relativamente al DUP e sono a disposizione per rispondere ad altre domande. Grazie Sindaco Pane. Prego consigliere De Maria. Buongiorno, buonasera. Allora, certamente il DUP in effetti è una fotografia, è una fotografia duplice, sia una fotografia delle azioni che vorrà fare l'amministrazione, quindi infatti acquisisce anche le linee di mandato, sia una fotografia anche al passato, cioè com'è la situazione del nostro paese, della nostra città in questo momento. Una delle cose che emerge chiaramente da questa fotografia è che un enorme problema che abbiamo, ce l'ha la provincia e ce l'ha Trino in particolare, è la demografia. Noi perdiamo 50 persone all'anno, ne abbiamo perse 650 nell'ultimo anno e dobbiamo anche ringraziare in questo caso la comunità straniera che comunque essendo numerosa e in aumento ultimamente riesce a mantenerci più o meno a livelli accettabili, perché se no adesso risenteremo i 5.000 abitanti. 50 persone meno all'anno ha un peso, perché vuol dire che il mantenere inalterate le entrate o le uscite e l'aumento dei costi va a pesare sempre su meno persone. Infatti la pressione tributaria in realtà è in aumento, è dato nel DUP e l'aggiornamento sulla nota, sulle note all'aggiornamento del DUP ne sancisce ancora un piccolo aumento rispetto al DUP che voteremo adesso. Quindi la cosa che preoccupa è il tema della demografia, so che è un tema che non si può risolvere in un anno, in 20 anni che scendiamo. L'ultimo dato positivo, con un trend positivo, di persone a Trino era nel 2003. Però c'è da pensare probabilmente qualcosa di diverso rispetto anche al futuro, soprattutto in virtù dell'aumento nei costi per l'ente, aumentano i costi per le famiglie, perché fondamentalmente non possiamo negare che la situazione in generale, non solo per noi, non solo per la città, non solo per la provincia, ma per tutta l'Italia, la situazione non è delle più rose e non si prospetta più rosea. Noi rispetto al DUP, se adesso anche gli altri consiglieri non hanno delle domande, voteremo ovviamente in modo negativo, perché è la fotografia di come è la vostra idea di città per i prossimi tre anni e non è la fotografia che ci piacerebbe vedere a noi. Non sono le soluzioni che secondo noi sono utili per il futuro della nostra città. Grazie. Rigo Sindaco Pane. Sì, l'analisi è abbastanza corretta per quello che concerne l'aspetto demografico. Non userei solo il termine in particolar modo trino, nel senso che il dato è in linea più o meno col calo demografico di tutta quest'area, oserei dire di quasi tutto il Piemonte e certamente dell'Italia in generale. Il tema della denatalità è un tema certamente importante, sarebbe ben più grave, come è stato correttamente detto, se non ci fosse un flusso migratorio da parte degli stranieri. Parlo a livello nazionale, non solo per quello che riguarda la nostra città. È altresì vero che, come è stato correttamente detto, la quantità e il valore dei servizi che dobbiamo continuare a dare aumenta tutti gli anni. Nel senso che, se pensiamo a dieci anni fa, al 2013, il concetto di assistenza all'autonomia scolastica, e quindi di supporto alle attività scolastiche per i bambini disabili non esisteva, fino a tre anni fa si parlava di una barra due unità, oggi sono dodici, nonostante siano meno bambini. E quindi, certamente, ci sono sempre più attività, come dicevo, da fare, che costano sempre di più. Con il calo demografico, la pressione sul singolo certamente aumenta. Aumenta qua, come in tutte le altre situazioni. Non c'è una formula magica, ahimè, per questo si fa quello che si può. Ci siamo inventati anche un bonus natalità, cercando di supportare, dare una mano alle famiglie che mettono al mondo dei figli. Con la speranza, molto remota, che possa essere un incentivo in più per farne, ma siamo consci che non è certamente il 990, 1200 euro che vengono dati con questa misura, che convinceranno delle famiglie in più a fare figli, ma certamente per chi lo fa sono sicuramente un aiuto, soprattutto nelle prime fasi di vita. cerchiamo di dare la maggior quantità di servizi alle famiglie, senza ovviamente dimenticare chi è in maggiori situazioni di difficoltà e di emergenza. Nei cinque anni, sei quasi trascorsi, non c'è stata richiesta in evasa per indisponibilità economiche, ma se mai è successo nel corso di cinque anni e mezzo, questa cosa è avvenuta nel merito della questione, nel senso che non era una richiesta accoglibile, ma in tutte quelle altre invece formule, e devo dire che poi in maggior ragione sul sociale siamo stati ancora più di manica larga da questo punto di vista, non siamo neanche entrati nel merito delle questioni, abbiamo più che raddoppiato le spese da questo punto di vista, così come sullo sport, che sono sicuramente un aiuto per le associazioni, ma in realtà indirettamente per le famiglie che portano i bambini a fare attività sportiva. Che questo risolva il problema del credo demografico? No, assolutamente, che dia una mano in più, certamente, a fronte di quello che è stato detto, ovvero che la pressione fiscale sul singolo un pochettino aumenta. Il problema su questo aspetto, su quale non è questo consiglio che può risolvere il problema, i dati, soprattutto nell'ultimo periodo, sono stati pubblicati da tantissimi quotidiani, da tantissime riviste, e che quando in tutto il resto d'Europa i salari sono cresciuti negli ultimi dieci anni, in Italia sono calati. Il valore degli stipendi di tutti noi è minore rispetto a dieci anni fa ed è l'unico paese in tutta l'Unione Europea in cui questo avviene. Di chi è la colpa? Come si risolva questo problema? Dicevo, non è certamente di questo consiglio, ma in un mondo, in un paese dove le cose funzionano bene, la crescita economica passa anche, ovviamente, attraverso la crescita dei redditi, del potere d'acquisto delle persone, purtroppo non dipende da noi, e quindi tutto questo ragionamento del calo demografico sicuramente sarebbe passato un pochettino con meno peso. La speranza è che questa cosa si inverta, ripeto, a Trino, così come da altre parti, sarebbe farsi la guerra dei poveri e rubarsi i residenti tra un comune e l'altro, è ovvio che il problema è ben più ampio. Quello che possiamo fare, come dicevo, è cercare di distribuire al meglio la ricchezza che raccogliamo dai cittadini e cercare di ottenere il massimo da bandi, contributi, finanziamenti che possiamo e che abbiamo cercato di prendere in tutti questi anni per poter dare, sì, qui, maggiore vantaggio ai nostri cittadini rispetto ad altri, perché se vinciamo il bando noi magari non lo vincono altri. Penso al distretto del commercio che è appena stato vinto, ci darà la possibilità di erogare 250 mila euro direttamente alle attività commerciali e questo avviene a Trino in cui i comuni fanno parte del nostro distretto e non avverrà in quelli che questo bando non l'hanno vinto. E quindi da questo punto di vista credo che buona parte del lavoro degli assessori, della giunta, dei consiglieri sia anche quello di ricercare queste forme di finanziamento ulteriori. Grazie Sindaco Pane. Se non ci sono ulteriori interventi passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Punto 3. Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF anno 2024. Esame ed approvazione. Prego Sindaco Pane. Grazie. Allora, così come previsto dalla nuova legge di bilancio si trattava di rivedere le aliquote sull'addizionale IRPEF perché si passerà da 4 scaglioni a 3 e con l'occasione abbiamo fatto una serie di ragionamenti che sono stati fatti anche ieri in sede di commissione e che hanno portato a noi a una soluzione. Io credo che su questo punto si debba discutere anche prima forse l'emendamento presentato questa sera quindi non mi dilungo moltissimo nel senso che così facciamo un ragionamento ulteriore rispetto alla commissione di ieri fondamentalmente la commissione ieri ha valutato la proposta fatta dalla maggioranza che era all'ordine del giorno una proposta emendativa fatta dalla minoranza che prevedeva due strategie diverse per arrivare al medesimo risultato. La nostra proposta poi ovviamente lascio spazio a voi per spiegare il vostro emendamento si traduce fondamentalmente in un inserimento di un'aliquota unica a 0,65 per mille per cento pardon con l'inserimento dell'esenzione a 8500 euro significa per tutti i redditi fino a 8500 euro si tratta di avere l'esenzione cosa che prima non c'era quindi un elemento di novità e di andare a accorpare le tre aliquote in un'unica a 0,65 il ragionamento che abbiamo fatto facendo più e più simulazioni con il supporto dell'ufficio che è stato ampiamente disponibile a fare una trentina di simulazioni diverse per provare a valutare quella che era la soluzione migliore ci ha messo di fronte diversi scenari assolutamente cercando di mantenere invariata l'entrata che appunto ci ha portato a fare una riflessione circa l'opportunità di portare a 0,65 appunto l'aliquota unica in modo tale da dare una riduzione di quello che è il peso dell'aliquota IRPEF poi non si parla di cifre enormi perché l'addizionale comunale IRPEF è una cifra all'anno molto bassa su quelli che sono i redditi indipendentemente dal quantum ci ha portato a fare questo ragionamento rispetto appunto alla suddivisione per scaglioni per quest'anno nel senso che in un'ottica in cui c'è questa revisione a livello nazionale abbiamo pensato di provare ad adottare questa soluzione di un'aliquota unica 0,65 proprio per vedere di intervenire su quelle fasce che sono un pochettino il ceto medio sul quale si è posta sempre poca attenzione dando un beneficio alle fasce certamente alle fasce più deboli inserendo un'esenzione a 8.500 euro cosa che prima non era prevista e che significa dare un beneficio di esenzione a 1.338 contribuenti che ovviamente prima non beneficiavano e pagavano l'IRPEF pagavano l'IRPEF normalmente in serie di commissione ieri abbiamo discusso l'opportunità invece di valutare una proposta che comunque va a scaglioni ci siamo riaggiornati a oggi so che avete preparato un emendamento abbiamo fatto poco fa anche con la dottoressa una serie di simulazioni per dare una sorta di parere tecnico istantaneo ecco che era necessario per poterla valutare vi ascoltiamo molto volentieri nel senso che come ieri il discorso è stato costruttivo anche questa sera lo sarà rimaniamo vedendolo ma ripeto vi lascio vi lascio parlare poi facciamo le valutazioni del caso molto orientati sulla scelta che avevamo già fatto di mantenere uno scaglione unico per i motivi che dicevo cercare di andare a creare del beneficio e quindi dare più reddito disponibile più potere d'acquisto al ceto medio e ovviamente a determinate fasce di reddito dando come dicevo un beneficio invece alle fasce più deboli inserendo appunto questa esenzione che riguarderà 1338 contribuenti all'incirca grazie sindaco pane prego consigliere de maria per l'esposizione dell'emendamento allora come anticipato dal sindaco pane il nostro emendamento si prefigge il mantenimento delle aliquote ovviamente con la riduzione da 4 a 3 perché il governo ha ridotto o ridurrà adesso non mi ricordo quant'è l'approvazione comunque l'aliquote IRPEF da 4 a 3 questo ammetto che mette in difficoltà perché fondamentalmente ci costringe ad andare un po' a colpire quella che era l'aliquota prima fino a 15.000 euro che adesso viene accorpata e diventa da 0 a 28.000 euro partiamo quindi un attimo dal basso che è l'esenzione 8.500 nella nostra prima proposta ieri in commissione noi avevamo proposto un'esenzione fino a 10.000 euro perché adesso vorrei così per puntualizzare ricordare che appunto l'addizionale IRPEF comunale è livellamente diversa dall'IRPEF tradizionale quindi basta superare di 1 euro la soglia di esenzione per pagarlo totalmente comunque abbiamo valutato ieri in commissione che le persone il numero di persone che c'è tra 8.500 euro e 10.000 di reddito annuo è poco e quindi manteniamo anche nel nostro emendamento un'esenzione 8.500 però sugli altri scaglioni punteremmo a dare una proposta proporzionale perché e in quanto quindi fino a 28.000 euro la nostra proposta che abbiamo valutato poco fa è un'aliquota di 0,57 rispetto alle aliquote precedenti che fino a 15.000 euro era 0,52 c'è un piccolo aumento che riteniamo comunque che venga assorbito in parte dal fatto che ci sia l'esenzione fino a 8.500 c'è una piccola riduzione per la fascia media appunto quindi da 15 a 28 una piccola riduzione andiamo a pagare fondamentalmente a coprire l'esenzione per i redditi più bassi aumentando livemente da 0,72 a 0,77 l'aliquota per lo scaglione da 28 a 50.000 euro ovviamente viene mantenuta inalterata l'aliquota a oltre 50.000 euro perché è già il massimo consentito perché questa scelta prima di tutto riteniamo che chi ha un reddito i concittadini che hanno un reddito tra 28 e 50.000 euro ha un aumento dello 0,05% che corrisponderebbe per 50.000 euro più o meno a 30 euro all'anno sia assolutamente risibile nel senso non se ne accorgerebbe neanche fondamentalmente è un piccolo aumento sono poco più di 2 euro al mese che peserebbero poco però aiuterebbero le fasce più basse le fasce più basse che sono anche le più numerose i trinesi che guadagnano meno di 28.000 euro sono più o meno 74% quindi nella nostra proposta questo piccolo aumento per una parte per il 20% dei trinesi potrebbe comportare comunque una riduzione o un non aggravio della tassazione per il restante 74% viceversa la soglia a 0,65% invece andrebbe a privilegiare chi guadagna oltre 28.000 euro andando a penalizzare sempre di poco perché ovviamente l'edizionale IRPEF non pesa tantissimo ma comunque andare a penalizzare maggiormente questi 74% di persone quindi la nostra proposta fondamentalmente è questa grazie consigliere De Maria prego sindaco Pane sempre se non ci sono altri interventi vostri sono sempre in un'ottica di ragionamento insieme allora mi appuntavo perché appunto l'abbiamo rivista questa sera per la fascia da 0 a 15.000 euro di reddito quindi la vostra proposta è 0,57 dagli 0,52 precedenti con l'inserimento fino a redditi fino a 8.500 ma questa cosa è invariata e vale per entrambe le proposte quindi in realtà per i redditi da 8.501 euro quindi non da 0 fino a 15.000 sto ancora nei 4 scaglioni di prima solo per fare il termine di paragone c'è un più 0,05% per i redditi da 15.000 a 28.000 c'è un meno 0,3 perché resta sempre 0,57 andandole a corpare per i redditi da 28.000 a 50.000 uno 0,77 quindi un più 0,05% e per i redditi oltre i 50.000 resta invariato a 0,80 la nostra proposta invece si comporrebbe in questo modo sempre l'esenzione fino a 8,5 per i redditi da 8.501 euro fino a 15.000 ci sarebbe il passaggio da 0,52 a 0,65 con un più 0,13% per i redditi da 15 a 28.000 più 0,05 quindi da 0,60 a 0,65 per i redditi oltre i 28.000 fino a 50 da 0,65 cioè perdono da 0,72 scendiamo a 0,65 quindi una riduzione dello 0,07 e per i redditi oltre i 50.000 una riduzione da 0,80 a 0,65 pare lo 0,15% questo è in termini percentuali se noi lo guardiamo se noi lo guardiamo in euro questa voce qua la riduzione che andiamo a fare alle fasce di reddito sopra i 28.000 euro con la nostra proposta pesa molto in termini economici libera reddito a ragionevolmente coloro che hanno già una potere di spesa importante e che più viene liberato più gli dà possibilità di spendere e di investire questo è un pochettino il ragionamento che ci siamo fatti e il ragionamento fatto sui redditi un pochettino più bassi è determinato dal fatto che sono quelle fasce che spesso nonostante e su quali incide poco perché lo 0,13 su un reddito da 10.000 euro per esempio incide per 13 euro in un anno quindi un euro al mese e sono quelle fasce che beneficiano spesso di numerose forme di sostentamento proprio perché si trovano già in una fascia economica di difficoltà banalmente l'anno scorso abbiamo fatto il bonus energetico era rivolto a queste fasce e hanno beneficiato di un contributo di 700 euro 600-700 euro se avessimo fatto la misura l'anno scorso dell'IRPEF sarebbe stato 600 euro che peschiamo dai redditi proprio più alti e a fronte di 13 euro in più all'anno che abbiamo preso sarebbero stati 587 euro la misura è finalizzata ad andare ad aiutare quelli che non ricevono mai nessuna forma di aiuto perché queste fasce qui non lo ricevono mai se non interveniamo su queste voci e hanno eventuali aumenti pesano molto di più in termini di euro rispetto ad altri è vero voi mi dite hanno redditi sicuramente più alti e 50 euro per chi ha un reddito da 28.000 e un euro pesa meno cioè gli peserà meno che 13 euro a chi ha un reddito da 10.000 euro nì perché se vale il principio della proporzionalità va tutto in proporzione uguale pesa in uguale maniera con una differenza che i redditi bassi come dicevo beneficiano di tutta una serie di misure nostre dello Stato e di altre forme dell'Inps o da dove derivano e tutte le altre fasce non ne beneficiano mai questo è un pochettino il principio sul quale ci siamo tarati e sul perché abbiamo provato a pensare di fare un'aliquota unica 0,65 che come vi dicevo quest'anno ci obbliga perché il grado di rigidità che abbiamo sul bilancio quest'anno è molto elevato per le motivi che vi dicevo prima poi quando arriveremo al bilancio ne vediamo anche altri le gare scadono un po' di appalti quindi ci sono dei costi aggiuntivi tutta una serie di spese che avremo molto probabilmente solo nel 2024 e non nelle annualità successive e che su quali se stiamo su un'aliquota unica per esempio per l'IRPEF 2025 possiamo provare a fare dei ragionamenti e ritornare anche ad abbassarla un pochettino e sul quale poi ne beneficiano tutti quanti questo è un po' il perché continuiamo a ritenere la proposta fatta da noi comunque migliorativa perché ci permette di mantenere il gettito invariato regaliamo a 1.331 contribuenti comunque un'esenzione e quindi le fasce quelle proprio più deboli di tutte sono comunque tutelate per le fasce un pelino sopra si parla di 13 euro all'anno che vengono e verranno certamente compensate da altre misure di sostentamento questo è un pochettino il ragionamento cosa che non potremmo dire per i redditi da 28.000 a 1 euro che non beneficiano mai di altre forme di sostentamento Sindaco Pane prego consigliere Balocco sì buonasera allora chiaramente al di là della matematica che è quella che abbiamo sentito nei due interventi è una questione di scelta sono scelte sono scelte che vengono fatte ecco la nostra scelta era verso una tassa progressiva che comunque manteneva comunque un gettito invariato perché comunque quello era comunque il vincolo per presentare una proposta insomma concreta ecco perché viceversa insomma avremmo parlato di cose astratte ecco quindi anche la nostra proposta mantiene un gettito invariato e nello stesso momento sarebbe stata una tassa progressiva che per noi era decisamente migliore consigliere Balocco prego consigliere Devaria e poi anche De Michelis poi giusto per capirci votiamo poi l'emendamento e poi successivamente il punto Allora giusto per dare un elemento di opinione in questo caso perché appunto la matematica l'abbiamo snoccelata la matematica è questa io ritengo che comunque è vero che si vuole andare a privilegiare con la proposta 065 chi potrebbe avere più potere di spesa però ritengo anche che chi prende tra 28.000 e 50.000 euro quei 20-30 euro in più non andrebbero realmente a impattare come per esempio siamo tutti d'accordo che l'esenzione 8.500 euro che vuol dire 44 euro in più nelle tasche di cui guadagna poco e considerando i numeri le percentuali che ci sono come persone potrebbero anche essere 90 euro per determinate famiglie in situazioni più disagiate influenzano molto perché vuol dire fare una spesa in più vuol dire pagare una bolletta in più fare un pieno in più all'auto 30 euro a chi già ne prende non sono ricchi le persone che guadagnano tra 28.000 e 50.000 euro non sono certamente ricchi io rientro tra quella fascia per esempio io però sono molto più propenso a spendere 30 euro in più che non li sento come averne 30 euro in più non li sentirei però consentire ad altre persone che guadagnano meno che magari guadagnano 10.000 o 11.000 euro idea 13 euro in più è pochissimo siamo d'accordo è pochissimo ma sono comunque 13 euro in più 14 euro in più quelli che sono stati detti prima solo questo mi permetto solo una cosa ma molto veloce sempre sulla matematica anche la vostra proposta prevede un aumento su quelle fasce lì da 0,52 a 0,57 sono 7,50 euro in più all'anno quindi la differenza tra la nostra e la vostra proposta è di 5 euro all'anno su quella fascia di cui hai parlato adesso quindi anche la vostra proposta prevede un aumento su quella fascia lì nello specifico e prevede la differenza sta che nella fascia da 15 a 28.000 voi prevedete uno meno 0,03 e noi prevediamo un più 0,05 lì c'è la prima differenza su quelle dopo noi su tutte e due interveniamo a ridurle voi su una sola è di poco anzi scusatemi sulla fascia successiva addirittura è in aumento su quella più alta 0 sul basso reddito 5 euro all'anno siamo d'accordo anche per chi ha 15.000 euro di reddito 5 euro non sposta niente perché tra la nostra e la vostra proposta è 5 euro sulle fasce successive la nostra proposta è migliorativa perché le abbassa tutte e questo che scusatemi prima forse non sono riuscito a far passare questo messaggio perché dovendo andare a uniformare sono d'accordo che per ridurle a 3 per questo siamo andati su una cioè o le spacchetti veramente tanto noi per esempio per fare un esempio perché l'abbiamo fatto noi non si rivedevano le fasce ISE della mensa dal 2011 nel 2018-19 l'assessore era Giulia Rotondo le abbiamo aumentate abbiamo frazionato ulteriormente per cercare di andare a dare a tutti la possibilità di pagare il più giusto possibile ok adesso dire il più il giusto è forse esagerato ma il più giusto possibile in questo caso qua quando vai ad accorpare le due fasce più basse o porti tutto in riduzione al minimo e per fare l'invarianza non ci stai o meglio per starci dovresti aumentare le fasce più alte ma quella più alta già non la possiamo toccare perché è già al massimo quella da 28.000 o la portiamo da 0.72 a 0.80 da vedere se con la simulazione sta dentro e le altre due quindi le portiamo a 0.52 ma è una prova che abbiamo fatto cioè portare le due fasce più basse insieme a 0.52 e portare le due fasce più alte a 0.80 entrambe non abbiamo margine non sta in piedi quindi questo 5 euro di differenza stiamo discutendo è per quello che ti dico secondo me la nostra proposta è migliorativa ma in modo costruttivo lo sto dicendo grazie grazie sindaco Pane prego consigliere De Maria anche io in realtà appunto in modo assolutamente costruttivo è vero che quello che è detto sulle cifre è assolutamente corretto però è anche il numero di persone il fatto che siano tante le persone sulle fasce più basse sono quelle che si vanno a colpire di più o di meno relativamente perché fondamentalmente sopra i 50 abbiamo visto che erano 200 persone quindi andiamo a ridurre a 200 persone che fondamentalmente già si potevano permettere nemmeno se ne accorgono dell'addizionale per quello secondo noi la progressività è ancora importante perché sono tante le persone che noi andiamo a colpire mentre con la vostra proposta cioè che andiamo a beneficiare mentre con la vostra proposta sono meno quelle che riceverebbero il beneficio tutto qua poi lascio ad Alessandro prego consigliere De Michelis grazie come già stato sottolineato dal consigliere De Maria per noi resta un problema il fatto che manchi la progressività premesso questo capisco anche che da livello tecnico sia più semplice fare i calcoli con una liquota unica però quello che stiamo pensando è che 13 euro i 5 euro non è quello se è un consapevole non è quello che risolve il problema di queste persone però davvero se io devo pensare a qualcuno che guadagna 10.000 euro qua parliamo di lordo 10.000 euro all'anno io personalmente non saprei come come fare a quel punto lì mi sa che anche i 13 euro che a noi sembrano e che oggettivamente anche per me insomma sono trascurabili ma questo sono consapevole non è un problema che possiamo risolvere qui il problema è che non può esistere qualcuno che lavora e che ha un reddito di 10.000 euro o anche meno il problema è quello il problema è quello il consigliere De Micheli sprego Sindaco Pane torno solo di nuovo sui numeri nella fascia 0.15.000 mettendo l'esenzione a 1.333 soggetti ne restano 600 che sono oggetto poi dell'intervento quindi in realtà sono una fetta molto più piccola quindi la fascia da 0 a 15.000 da 0 a 8.500 diventano esenti quindi 1.300 persone diventano esenti gli altri 600 che sarebbero soggetti a trattenuta IRPEF nella vostra proposta gli si prenderebbe 7.50 euro in più all'anno nella nostra 13 quindi 5.50 euro pardon sì 5.50 euro nella fascia da 15.000 a 28.000 ci sono circa 1.700 soggetti quindi parliamo già di uno scaglione sopra ok parliamo di chi ha un reddito da 15.000 e da chi ce l'ha da 28 detto che sono d'accordo con Alessandro pensare che ci sia qualcuno che a meno che non lo fa per scelta di vita di avere un reddito di 15.000 euro perché ne abbasta di quello che di quello che gli serve è un reddito bassissimo quindi 15.000 euro al giorno al giorno d'oggi così come altrettanto è già un reddito più dignitoso 28 mettere tutte insieme quel pacchetto lì forse non è il massimo ma detto questo la fascia è 1.778 in questa fascia qua di questi 1.778 814 sono lavoratori dipendenti e 903 sono pensionati ok in questa fascia quindi ragionevolmente nella nostra e nella vostra proposta c'è di nuovo una differenza di 4-5 euro all'anno non andiamo a incidere molto quanto invece incidiamo tantissimo sulla fascia superiore che è di nuovo un migliaio di persone 980 dove anche in questa fascia ci sono pensionati lavoratori dipendenti lavoratori autonomi e interveniamo su quella sopra o ancora dove ci sono di nuovo 230 persone di cui 130 comunque sono lavoratori dipendenti e 51 pensionati più tutti gli autonomi le imprese e chi ha partecipazioni societarie o altro obiettivamente buona parte dei soggetti che rientrano nelle fasce che dicevamo prima sono lavoratori sono lavoratori che hanno delle detrazioni che hanno dei benefici che hanno tutta una serie di altri benefit che vengono dati e che compensano ampiamente i 5 euro che ci sono di differenza tra l'una e l'altra proposta al netto che entrambi proponiamo un aumento 750 e 13 credo che chiudiamo il ragionamento in questo senso cogliendo le parole del consigliere De Michelis noi siamo per una questione di principio al di là dei numeri per una questione legata alla progressività perché la riteniamo un metodo più corretto dal lato nostro noi abbiamo fatto una valutazione veramente molto più scevra senza entrare nel che cosa fosse più corretto o meno da questo punto di vista in termini di principi ma matematica tecnica e dove potevamo incidere in maniera migliore abbiamo ipotizzato che andando a incidere su tutti i redditi oltre i 28 mila euro dandone un beneficio e chiedendo 5 euro in più all'anno nei redditi sotto non avremmo creato un disagio importante proprio perché quelle fasce sotto come dicevo sono già beneficiari di tantissime altre misure adesso la prossima di prossima emanazione è il bando della carta acquisti quindi abbiamo proprio per quelle fasce lì quindi io provo a ipotizzare che se togliessimo la carta acquisti che non la facciamo che ha un valore di 18-19 mila euro la misura che uscirà adesso 17 mila euro e la utilizzassimo per avere una riduzione IRPEF facciamo finta io gli lascerei 5 euro a questi soggetti non gliene darei 100 questo è il ragionamento non ci sarebbe invarianza se io non chiedo i 5 euro in più ok facciamo finta nei vostri e nei nostri aumenti perché abbiamo detto che il principio è quello di cercare l'invarianza se superiamo il principio dell'invarianza anzi facciamo una riduzione di gettito IRPEF nelle casse del comune a fronte di quei 5 euro in meno io devo andare a togliere delle misure sul bilancio che possono essere anche questa per esempio che arriva invece dal fatto che nella fiscalità generale arriva un po' di tutto anche questi 5 euro e gliene restituisco 100 ne ho citata una 100-150 non mi ricordo qual è la misura a seconda del decreto e sarà solo per queste fasce se non la capisco ma andiamo a chiedere di solo 28 mila euro quindi ricido un pochettino questo di cercare di trovare l'equipo come dicevo prima raccogliamo per distribuire nel miglior modo possibile poi possiamo essere d'accordo su quella specifica iniziativa piuttosto che altro non avremmo fatto una carta mista e avremmo fatto un'altra cosa ragionamenti ci mancherebbe però il principio è un pochettino questo qua quindi quello che vi chiedo è al di là della propensione dell'ideologia sulla progressività sulla quale non si trova in controposizione non è che scoperta di vota unica a tutti i corsi ma semplicemente proprio perché abbiamo fatto centinaia di simulazioni diverse quella è stata quella che tiene l'equilibrio giusto alla questione e ci mette nelle condizioni di continuare a fare le cose che facevamo con un'incidenza praticamente del tempo in cui ho parlato qui trovo un'altra proposta 13 sul totale e sono sulla marcia tutte le arbre che c'hanno 20 e su quella marcia comunque 0.15 introduciamo su questo siamo tutti d'accordo 8.500 euro di esenzione quindi 1330 persone risparmiano di 44 euro al anno questo è un po' per chiudere nel senso è una questione tecnico-matematica ma che valuta anche la situazione della fotografia di numeri e quindi si traduziona con le azioni concrete per la ricetta passiamo la votazione dell'eventamento votiamo l'eventamento favorevoli contrari adesso passiamo la votazione del punto favorevoli contrari tutto fatto I.U. a liquid 2024 esame e approvazione e così da copane così come abbiamo fatto un ragionamento sui cittadini facciamo lo stesso ragionamento sulla questione riguata di immobili sono sempre meno immobili che sono soggetti all'immo o comunque che la pagano piena nel senso che molti immobili li stanno diventando fatiscenti nella nostra città e gli hanno diritto tutta una serie di accevolazioni benefici 50% se sono immaginibili o gli abitabili che sono sempre aumentano e questo purtroppo è un dato si collega al demografico e ad altri fattori che non vengano sistemati e questo comporta certamente una riduzione del gettito atteso se non teniamo lo status quo facendo quindi un'analico emizione rispetto alla fotografia che abbiamo sul di gettito una fotografia di quelle che erano le aliquote che avevamo fino al 2023 confrontandosi un pochettino con quelle che sono presenti anche nei comuni di Mitrofip ovviamente di situazioni fotografiere simili alle nostre si propone di modificare rispetto dell'aliquote da 0,4 a 0,5 per 1000 quelle le abitazioni in categoria catastale A1 0,5% pardon hai ragione 0,5% quindi 5 per 1000 le abitazioni principali di categoria catastale A1 A8 A9 che sono le case di lusso e il tetto 0,5 è massimo e ce n'è una forse due sul nostro territorio e di portare i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D a 1,06 questa voce in realtà è una voce che non riscuote interamente il comune perché lo 0,76% va allo Stato solo la parte di differenza quindi lo 0,30% resta nelle casse del comune e le aree fabbricabili all'1% Grazie Sindaco Prego Consiglia Ferrarotti Grazie Sì ecco abbiamo appunto visionato questa proposta di tabella allora i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D di fatto sono tutti quelli dell'area artigianale industriale eccetera comprendendo le ragioni che sono state indicate in premessa dal dal Sindaco riteniamo tuttavia proprio perché le spese aumentano anche per le imprese questo non è uno dei momenti più semplici anche per loro andare ad aumentare la tassazione proprio perché le aziende del nostro territorio non sia un segnale positivo da parte dell'amministrazione è ben vero che l'aliquota pari a 1,06% l'andiamo a riscontrare abbiamo fatto una verifica anche in altri anche in altri comuni detto questo volevamo capire anche quant'era se era già stato fatto questo conto qual'era il gettito che si otteneva facendo questo passaggio da 0,96% a 1,06% quindi per poter comprendere anche proprio in termini numerici il valore di questa di questo aumento in termini di euro ecco grazie consigliere Ferrarotti adesso lasciamo la parola al sindaco sì certo anche su questa partita ovviamente abbiamo fatto tante simulazioni diverse per capire dove era meglio allora il concetto è che sì provo a rispondere nel modo più corretto possibile alla domanda intanto che Simona cerca un pochettino i numeri da questo è questo da 104 a 125 sì sono all'incirca un 30.000 euro complessivi tra tutti i D quando invece sulla sui su tutte il gruppo su un gruppo A sul gruppo B e sul gruppo C abbiamo una riduzione di gettito cioè il gruppo A passa a parità di aliquota a un eh sì 9,7 eh e quindi la simulazione è questa quella corretta ok e quindi però non è quella dello scorso anno qua quello dell'anno scorso vale totale fa uguale totale fa uguale quello che stavo quello che stavo dicendo ok no se volete guardare il concetto non abbiamo non abbiamo non abbiamo non abbiamo la stampa del gettito che è stato incassato nel 2022 per categorie catastali il concetto qual è che 2 milioni e 50 deve fare 2 milioni e 50 fa 2 milioni e 50 ovviamente andando a incidere sul gruppo D vuol dire che ci sono altri gruppi che si sta incassando meno si sta incassando meno sul gruppo A sulla categoria catastali A questo è quello che l'ufficio ci dice sì allora così come prima ecco diciamo che parliamo di cifre comunque che all'interno di un bilancio così importante quanto 11 milioni di euro è un bilancio sostenuto abbiamo già fatto ieri questo discorso sì sì no ci mancherebbe però è un segnale ecco quello di andare ad aumentare proprio sulle sulle aziende che comunque del nostro territorio non sono così non sono così numerose invece bisognerebbe assolutamente sostenerle ecco riteniamo che questo aumento non troverà il nostro barriere favorevole quindi abbiamo già anticipato ieri sì e come abbiamo anticipato ieri manca un pezzetto nel discorso le abbiamo scelto questa categoria perché portano in detrazione a differenza di tutte le altre questo è il ragionamento che abbiamo fatto ieri quindi a fronte di quello da 0,25 che era adesso la quota nostra quindi 1,06 è quello che loro pagheranno ma il 75% va allo Stato quindi quello non lo determiniamo noi l'ha determinato lo Stato la nostra quota va da 2,5 a 3 quello che incassiamo noi quindi la differenza è da 2,1 a 3 pardon scusate da 2,1 a 3 quindi la nostra differenza è 0,9 quello 0,9 lì va in detrazione insieme anche all'altra parte per quello abbiamo scelto quella categoria e non un'altra poi rispondo come ho risposto ieri sulla frase in un bilancio da 6 milioni abbiamo già fatto ieri questo discorso il riuscire ad andare a togliere 30.000 euro in questo momento su quest'anno in questo bilancio è quasi fondamentalmente impossibile c'è la dottoressa bassignana che può testimoniare margini di manovra sulle spese variabili ripeto o togliamo qualcosa sul verde o togliamo qualcosa alle associazioni arrivo dall'incontro di oggi pomeriggio col comitato del carnevale che mi ha detto che non stanno dentro alla cifra prevista per il contributo se fanno la manifestazione se fanno le manifestazioni come le hanno sempre fatte e come è sempre stato noi abbiamo cercato di aiutare tutte le associazioni in maniera uguale quindi nella misura in cui in realtà chi ci chiede ci chiede addirittura di più di quello che abbiamo sempre dato tutte le associazioni che andiamo dal sociale all'udico ricreativo a chi fa cultura tutti chiedono qualcosa in più diventa complicato riuscire a sforbiciare da qualche parte al netto di quello che è già stato sforbiciato il bilancio pareggia praticamente stessa identica cifra dello scorso anno tra l'entrata e uscita quindi obiettivamente non è che facendo queste operazioni creiamo maggiori entrata per il comune per finanziare delle attività che non finanziamo già nell'ordinario assolutamente no quindi nella misura ci è sembrata la misura che incidesse meno tra tutte quelle che ci sono perché perché per le aziende è possibile portarlo in detrazione quindi a fronte dell'aumento di 0,9 in realtà sarà molto meno questo è il motivo e come dicevo ieri trovare i 30-40 mila euro che sono non è facile in questo momento proprio anche perché ci sono tutta una serie di incertezze di cui ieri abbiamo discusso sul punto del bilancio che vi ridirò dopo quando discuteremo quel punto lì e per i quali in questo momento è impossibile sul 2025 ci torniamo a fare ragionamenti come abbiamo detto per l'IRPEF lo rifaremo anche per l'IMU molto volentieri ma come vi dicevo con la legge di bilancio nuova che ha previsto tutta una serie di misure c'è il ritorno al patto di stabilità la spending review e tutte queste misure qui in questo momento abbiamo una serie di gradi di incertezza che non ci permettono di avere grandi margini di manovra nel corso dell'anno li avremo? Bene possiamo ritrovarci sicuramente non possiamo andare a modificare le aliquote perché sono quelle che una volta approvate valgono quelle per l'anno in corso possiamo trovare delle misure premiali? Sì possiamo condividere insieme di trovare delle misure premiali a chi ha purtroppo non beneficiato la parola sbagliata ma ha avuto purtroppo questa misura qui se nel corso dell'anno abbiamo rispetto alle proiezioni che abbiamo fatto noi di quello che dobbiamo tenere accantonato non spendere o comunque restituire migliori rispetto ad adesso questo si può fare però non in questa fase di redazione del bilancio di previsione vi ripeto quello che ho detto ieri ecco tutto qua grazie sindaco Pane certamente la costruzione del bilancio è il progetto più importante di ogni amministrazione per cui su questo senz'altro abbiamo visto però anche quest'anno come comunque per alcune iniziative vi sono poi dei finanziamenti dei contributi che arrivano a finanziare per esempio le attività legate alle manifestazioni eccetera per cui bene che poi alla fine se si riusciranno a trovare delle misure premiali ci troverete senz'altro d'accordo per cercare di compensare questi maggiori aumenti detto questo un aumento della tariffa legata al limus eppure per categorie che effettivamente hanno la possibilità di portare in detrazione questo è evidente rispetto a un privato cittadino ecco lo riteniamo al di là di tutto un segnale poco positivo poi al di là della matematica che di nuovo deve reggere il bilancio di previsione quindi come anticipato comunque il nostro voto sarà negativo su questo nel caso sarebbe migliorativo intervenire sulle seconde case per voi non so come abbiamo fatto sull'IRPEF dei ragionamenti possiamo farlo anche su questo se ritenete che secondo voi sia migliorativo incidere sulle seconde case anziché sulle aziende è un ragionamento che possiamo fare l'abbiamo fatto rientra tutto a b e c un ragionamento di questo tipo non si possa fare senza essersi prima consultati senza aver fatto anche noi abbiamo fatto quattro ore di commissione ma su questo punto non abbiamo presentato delle simulazioni per cui dire no non siamo d'accordo va benissimo ci sta nella legittimità delle cose però come vi ho detto non finanzia un'entrata maggiore finanzia la stessa entrata quindi è una questione di scegliere solo su quale tutto qui vi stavo chiedendo se avevate una proposta alternativa non c'è ok l'avremmo valutata tutto qua grazie consigliere Ferotti grazie sindaco Pane passiamo alla votazione favorevoli contrari punto 5 bilancio di previsione 2024-2026 esame ed approvazione prego sindaco Pane grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori di positivo di positivo intanto quest'anno a differenza dello scorso anno che abbiamo dovuto attendere proprio gli ultimissimi giorni dell'anno per vedere come sarebbe stata strutturata la legge di bilancio quest'anno abbiamo avuto una legge di bilancio che è stata discussa per tempo l'anno scorso a causa ovviamente di elezioni straordinarie si è protratto il tempo quindi si è discussa forse neanche si è discussa ma è stata approvata in tempi record ma senza senza avere modo di poter visionare nulla quest'anno seppur l'approvazione è arrivata solo pochi giorni fa della legge di bilancio noi ovviamente secondo quelle che sono le regole come giunta l'abbiamo approvato già a novembre il bilancio di previsione 24-25-26 avevamo più o meno un'idea grazie anche all'aiuto e ovviamente il supporto che dà sempre anci ai comuni in fase di redazione dei bilanci di quelli che sarebbero state i provvedimenti principali che ci riguardavano purtroppo i provvedimenti che ci riguardano hanno se mi dai la nota di Anci quella che avevi ieri hanno per noi note dolenti dicevo anticipavo un pochettino prima il concorso da parte degli enti locali alla spending review prevede un 200 milioni di taglio di trasferimenti ai comuni nelle modalità e nelle entità che verranno discusse in conferenza stato-città o conferenza unificata adesso non ricordo bene quale fosse la sede ma ci sarà sicuramente una riduzione di quelli che sono i trasferimenti o una richiesta di accantonamento adesso sembrava più forse di dover accantonare delle risorse non diminuire le entrate ma alla fine farà un meno rispetto all'anno precedente c'è una serie di incertezza anche legate a una serie di trasferimenti di cui non siamo ancora a conoscenza di come verranno fatti e soprattutto come dicevo l'aumento dei costi è un aumento dei costi che riguarda va dal personale va alle utenze va ai servizi che eroghiamo e va alle richieste desiderate che hanno fatto hanno fatto ovviamente concordandolo con gli assessori hanno fatto gli uffici rispetto alle attività che sono necessarie tagliuzzando poi un po' di qui e un po' di là fondamentalmente il bilancio pareggia ai 6 milioni e circa e 700 la parte corrente come praticamente nella stessa identica entità dello scorso anno forse 20 mila euro meno tra entrata e uscita sul totale ma poco 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 fa questi 20 mila euro come dicevo è un anno un po' particolare a memoria forse lo era stato anche il 2019 pardon il 2020 anche questo ma ce lo siamo un po' passati in cavalleria perché c'era il fondo covid che ci ha permesso di non avere questo carico questo tra l'altro è il primo anno in cui non ci sono trasferimenti straordinari per gli enti dal 2020 perché nel 20 nel 21 c'era il fondo covid nel 22 23 c'è stato il fondo per le utenze per ammortizzare il costo dell'aumento delle utenze quest'anno è il primo anno in cui non c'è nessuna di queste misure che ci permetta di ammortizzare gli aumenti dei costi come dicevo adesso è la mensa il servizio extrascolastico dello scuolabus è già aumentato lo saranno presto anche probabilmente il servizio del verde lo è già stato lo spazzamento stradale che è passato dai 130 140 mila euro a circa 200 mila quindi sono tutti costi che aumentano e che ovviamente comportano le misure che abbiamo adottato prima per quello che riguarda le entrate che ci permettono di pareggiare e ovviamente una serie di sforbiciate di tagli per quelle voci che possono essere tagliate senza incidere troppo sul buon andamento regolare dell'ente delle attività che ovviamente l'amministrazione vuole mettere in campo credo che il 2024 è un anno particolare ci sono e qui chiudo anche una serie di gare che vanno in scadenza e che dovranno essere fatte ovviamente ci sono una serie di costi legati alla preparazione alla redazione e bandire queste gare vedremo poi in sede di bilancio consuntivo quello che sarà l'avanzo d'amministrazione e sulla base di quello poi potremo prevedere nel corso dell'anno e anche visti poi i decreti attuativi che usciranno man mano da qua alla primavera vedere quelle che possono essere le misure migliori per cercare di andare incontro alle esigenze della popolazione in generale dai cittadini alle imprese e ovviamente mettendo in campo tutto quello che di buono abbiamo portato a casa sia in termini di attività come quelle sul distretto del commercio o anche in termini di lavori pubblici come il recupero la riqualificazione di palazzo vi andrà così come l'avvio del cantiere della nuova mensa della scuola dell'infanzia che certamente poi comporterà una spesa per riadattare gli spazi della vecchia mensa su una richiesta che già la scuola ci ha avanzato ovvero quello di creare una aula di psicomotricità e il termine del cantiere dell'asilo nido ecco anche questo sull'asilo nido per esempio abbiamo un aggravio di costi che sono certamente portati dal trasloco andare e ci sarà un aggravio di costo nel tornare un maggiore costo per il servizio della mensa perché c'è da fare il veicolato e certamente maggiori costi rispetto alle utenze che seppur in concessione ovviamente la convenzione ha previsto fatta a tre comune parrocchia e il concessionario ha previsto che il PEF aveva un quadro economico per le utenze superato quel quadro economico garantisce il comune ovviamente se no il concessionario non avrebbe mai accettato di farsi carico di una spesa ulteriore senza poter incassare di più e quindi abbiamo già stimato un budget anche in questo senso specifico da destinare costano di più le assicurazioni siamo quasi raddoppiato il costo delle coperture assicurative come per tutti da chi deve pagare l'RC auto o la polizza per la casa noi abbiamo un patrimonio immobiliare importante e quindi certamente cubano cubano molto sono aumentati anche alcuni costi di servizi per le attività ordinarie e come dicevo le bollette grazie sindaco pane prego consigliere di michelis condivido come è stato appena detto che insomma stilare un bilancio è complicato è complicato soprattutto quando un'amministrazione non ha dei dati chiari sui trasferimenti cioè non è normale poter stilare dei bilanci e fare dei conti senza sapere come quando di che portata saranno i trasferimenti noi trasferimenti eccetera detto questo il bilancio diciamo il riassunto è la trascrizione in cifre del programma dell'amministrazione dove ci sono scelte che ha fatto l'amministrazione e in parte che possono essere benissimo condivisibili altre che sono scelte vostre che non sono in linea con il nostro modo di vedere ma come è normale che sia se no qui non ci sarebbe una controparte esatto per cui va bene prendiamo atto del bilancio che viene presentato il nostro voto in questo caso sarà comunque contrario grazie consigliere Di Michelis se non ci sono ulteriori interventi passiamo alla votazione favorevoli contrari grazie punto 6 ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica prego dottoressa Bassignana il decreto legislativo del dicembre 22 numero 201 affida all'autorità nazionale dell'anticorruzione il compito di pubblicare la documentazione degli enti locali relativa ai contratti di affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di trasmettere all'ANAC questa ricognizione quindi come ogni comune superiore a 5.000 abitanti abbiamo dovuto produrre questa relazione non so se avete letto la delibera e la relazione stessa che abbiamo individuato dei servizi pubblici locali di vario tipo sostanzialmente sì più che altro perché l'ANAC e soprattutto questa ricognizione è rivolta soprattutto ai grandi comuni che hanno delle partecipate a cui affidano in house i servizi di rilevanza economica noi ne abbiamo veramente siamo risibili sì abbiamo dei servizi tipo che affidiamo società cosiddette partecipate anche se non sono in house perché queste società tipo l'ASM non può essersi definita non può essere definita in house perché è partecipata non solo da enti pubblici ma anche da soggetti privati IREN mi sembra che sia la maggiore società che detiene le azioni di ASM e quindi ad esempio abbiamo le luci votive che ormai in memoria e tempo è affidata all'ASM poi abbiamo individuato l'ASILO NIDO però non è affidato in concessione quindi non è in house una società partecipata poi aspettate che guardo la rifezione scolastica sempre attraverso una società un appalto servizi cimiteriali ecco sui servizi cimiteriali abbiamo fatto un approfondimento un po' più un po' più consustente per il fatto che l'AFIB c'è questo contratto di parternariato pubblico privato in cui è stato affidato dal 2021 all'AFIB la gestione del cimitero del cimitero in concessione praticamente vogliamo ricordarlo AFIB ha praticamente costruito in nome per conto del comune le nuove cappelle e abbiamo una concessione quindicinale giusto per cui gestisce le entrate e le uscite del cimitero e poi abbiamo la distruzione del gas naturale questa è una questione un po' delicata perché la distruzione del gas naturale purtroppo dovrebbe andare a gara d'ambito e da anni che si parla di questa questione però dovrebbe essere Vercelli a gestire la gara d'ambito ma non è ancora successo niente di concreto comunque in tutta Italia la situazione è più o meno simile solo poche gare d'ambito sono state fatte e finché non ci sarà questa gara d'ambito noi ci rifacciamo a un contratto che abbiamo con due i reti gas per la distribuzione che ogni anno ci garantisce delle entrate perché questa concessione prevede per il comune un compenso che è abbastanza importante per il comune quindi finché c'è speriamo che perché poi ce lo riconoscerà chi vincerà chi vincerà la gara d'ambito la gestione le nostre reti sì esatto grazie grazie dottoressa Bassignana città l'acqua come i rifiuti dovrebbero essere gestiti in area vasta acqua i rifiuti lo sono in nessuna parte d'italia non so forse quanti ambiti del gas avranno fatto in tutta Italia quasi zero sembrava matura poco prima del covid la questione anche perché avete visto anche in questi anni quanto due i reti gas si è intervenuta ovviamente sulle reti per fare sostituzione e quant'altro perché ovviamente il valore residuo gli viene riconosciuto se mai perdessero la gara quindi obiettivamente le operazioni che sono state fatte erano necessarie in buona parte e in altre servivano come investimento come ritorno per anche avere un valore residuo più importante anche il valore scala progressivamente ma in maniera molto corposa dopo i vent'anni se la rete ha più di vent'anni si più che decurta il valore e quindi ti viene riconosciuto meno vale per il gas come per l'acqua come per tutte le altre cose e quindi questa cosa al comune di Vercelli è ferma da secoli ma non mi sento di dare la colpa al comune di Vercelli quanto ovviamente deve mettere insieme una serie di comuni che tutti devono dare una serie di informazioni di dati di disponibilità e quant'altro devo essere sincero quando è nato il Covival o quando è nato lato nostra non c'ero quindi non so che difficoltà abbiano avute o quali non abbiano avute allora vedo quelle sul gas dove fanno tutti un po' finta di niente un po' tutti e sono lì non so se ci sono altre questioni ma su questa partita qua diciamo che quelli a rilevanza economica sono questi abbiamo messo anche questo del gas perché dovrebbe esserlo ma non dovrebbe star qua perché dovrebbe andare in area vasta ma in questo momento il contratto ce l'hanno con noi e quindi rientra qua dentro per questo la dottoressa ha detto in maniera un po' più anomala rispetto al resto dobbiamo metterlo noi perché in questo momento è ancora qua grazie sindaco Pana grazie dottoressa Bassignana prego consigliere De Michelis sono una domanda per la questione delle reti del gas è prevista anche la manutenzione a carico del gestore grazie consigliere De Michelis passiamo alla votazione favorevoli unanimità punto 7 revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175 successive modifiche e integrazioni ricognizione partecipazioni possedute al 31 12 2022 prego sindaco Pane non dico che è un copio in colla della delibera di prima perché non lo è ma va a vedere quelle che sono le attività quindi è sempre una normativa legata all'ANAC sull'anticorruzione per tutto per verificare un po' quella che è la situazione delle società partecipate il comune di Trino ha partecipazioni tutte molto basse rispetto è tutto uguale come gli altri anni tranne per un elemento di novità di cui abbiamo già parlato ieri in commissione che è la società Minerva SRL che è una società che è stata costituita il 30 dicembre 2022 con atto di scissione parziale e proporzionale da parte di ASM Vercelli SPA essendo noi soci con lo 0,01% in ASM diventiamo soci con lo 0,0088 567 in Minerva SRL le altre quote sono invariate il COVE varrà del 4,03% ATL 0,097% a netto che è in corso la fusione con ATL Novara quindi non sappiamo non sappiamo sì sì certo però non sappiamo non ti hanno già detto la cosa più o meno più o meno uguale il Consorzio Coverpop lo 0,64% e ATAP SPA lo 0,944% queste sono le partecipazioni dirette del Comune quelle indirette sono legate a ATO2 SCARL territorio risorse SRL e Atena Trading SRL e Extrato sì che ora è detenuta da Minerva quindi le partecipazioni indirette sono queste grazie Sindaco Pane se non ci sono interventi passiamo direttamente alla votazione favorevoli un'animità punto 8 Commissione Comunale Speciale sul processo di disattivazione della centrale nucleare Enrico Fermi integrazione componenti rappresentanza delle associazioni ambientalistiche e dei comitati locali attivi sul tema del nucleare si propone di prendere atto che la Commissione Comunale Speciale sul processo di disattivazione della centrale nucleare Enrico Fermi risulta così composta il Sindaco Daniele Pane l'Assessore Alberto Mocca componenti nativi Pier Giuseppe Danna Marco La Loggia per gruppo di maggioranza Patrizia Ferrarotti per gruppo di minoranza il signor Fausto Cognasso per l'engambiente gruppo Trino il signor Umberto Lorini per comitato di vigilanza sul nucleare è una presa è una presa d'atto però dobbiamo comunque passare alla votazione quindi se non ci sono ulteriori interventi passerei direttamente alla votazione se no prego Consiglio Ferrarotti l'intervento riguarda soltanto il fatto che appunto adesso la commissione di fatto è completa per cui si può procedere con la prima convocazione che deve essere fatta dal sindaco da regolamento ecco grazie consigliere Ferrarotti passiamo alla votazione favorevoli unanimità punto 9 presentato dalla minoranza quindi vi do poi la parola appena leggo l'oggetto convocazione di una donanza aperta sul tema della possibilità di autocandidatura di cui all'articolo 11 del decreto legge 181 2023 prego consigliere Ferrarotti sì grazie vado a leggere il testo della nostra proposta premesso che la carta nazionale delle aree idonee CNAI pubblicata in data 13 dicembre 2023 è il documento che individua le zone dove localizzare in Italia il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il parco tecnologico premesso che tale carta viene elaborata in base ai criteri previsti dall'ISPRA nella guida tecnica 29 oltre che in base ai requisiti indicati nelle linee guida dell'International Atomic Energy Agency premesso che il Consiglio dei Ministri ha inserito nell'ambito del nuovo decreto legge 9 dicembre 2023 numero 181 all'articolo 11 l'apertura alle autocandidature per individuare il sito dove realizzare il deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi andando a modificare il decreto legislativo 15 febbraio 2010 numero 31 rilevato che il comune di Trino non è stato inserito all'interno dell'elenco dei 51 comuni idoni ad ospitare il deposito rilevato che il sindaco Pani in sede di commissione ambienta della camera dei deputati nell'audizione dell'8 novembre 2023 ha espresso in materia di procedimento per l'individuazione dell'area destinata alla realizzazione del parco tecnologico e del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media intensità la propria disponibilità a far rivalutare il territorio del comune di Trino ritenuto che la tematica della localizzazione sul territorio comunale del deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi non trova riscontro politico programmatico nelle linee di mandato di cui alla delibera del consiglio comunale numero 17 2023 ritenuto che una scelta di tale importanza debba essere concertata con la cittadinanza amministrata e con tutte le forze sociali e politiche delle aree territoriali potenzialmente coinvolte ha preso che alcuni comuni di aree limitrofe tra cui Vercelli hanno affermato tramite delibera di consiglio comunale il principio secondo cui l'individuazione della sede del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi non possa avvenire tramite autocandidature che si scontrino con criteri di idoneità tecnico-scientifica del sito ospitante come potrebbe verificarsi con il caso di Trino città esclusa dall'elenco dei siti idoni tutto ciò premesso rilevato ritenuto ed appreso chiediamo la convocazione di un'adunanza aperta da convocarsi entro l'11 gennaio 2024 secondo l'articolo 19 del regolamento delle adunanze del consiglio comunale avente come oggetto il deposito nazionale unico dei rifiuti radioattivi ecco riteniamo che su un tema di tale importanza sia importante l'impegno da parte di tutto il consiglio comunale affinché vi sia una massima partecipazione e condivisione a questo momento di adunanza aperta ecco e auspichiamo che al di là poi degli interventi che potranno essere concordati mediante invito ci sia comunque la possibilità di una massima espressione da parte dei portatori di interesse su un tema che di fatto ha una rilevanza che va ben oltre l'ambito territoriale del nostro comune per cui accogliamo il fatto che sia stata che sia stato inserito questa questa nostra richiesta come punto all'ordine del giorno perché già come avevamo anticipato nel passato consiglio riteniamo che sia di fondamentale importanza condividere una scelta che va oltre questo questo mandato grazie consigliere Ferrarotti prego sindaco pane mi fa piacere come dimentichiamo sempre dei pezzetti ma va bene lo stesso il documento a cui si arriva questa sera è modificato perché l'abbiamo discusso ieri e l'abbiamo condiviso ieri sarebbe stato carino da parte vostra riconoscere trovare delle formule condivise detto questo voteremo a favore perché non c'è nessun motivo anzi ben volentieri si possa discutere si possa discutere all'interno della sede del Consiglio Comunale nelle modalità che sono previste dal regolamento e nessun'altra perché se si sceglie le formule previste dal regolamento comunale o meglio se si sceglie la sede del Consiglio Comunale si sceglie la sede del Consiglio Comunale e si seguono le regole del Consiglio Comunale che prevedono che l'adunanza aperta sia la giunta a convocarla e sia la giunta a fare gli inviti anche in questo caso il dire auspichiamo quando già ieri ci siamo messi d'accordo che gli inviti li concordiamo assieme sembra mettere un'alea di dubbio rispetto alle parole che ci siamo detti e questa cosa proprio mi disgusta proprio la parola è disgusto detto questo voteremo a favore nonostante le premesse di questo documento votiamo a favore perché siamo d'accordo sul si delibera si chiede perché le premesse sono quantomeno nell'appreso che il Comune di Vercelli ha affermato tramite delibera di Consiglio Comunale il principio secondo cui io la delibera non l'ho vista pubblicata all'albo pretorio sono sicuro che voi l'abbiate letta da qualche parte non so quale quindi diventa complicato dire quali cose abbiano scritto dentro la delibera del Consiglio Comunale di Vercelli sul fatto che non ci siano criteri di idoneità scientifico tecnica sulle altre questioni sulle città escluse lo vedremo perché abbiamo parlato ieri al di là delle città dei siti del Ministero della Difesa erano esclusi adesso sono ricompresi ma nessuno dice nulla ma va bene ne parleremo quando sarà l'occasione così come non condividiamo che una scelta di tale importanza deve essere concertata dalla cittadinanza amministrata si discute si parla le decisioni le prende il Consiglio ognuno di noi è seduto qua a prendere delle decisioni alza la mano vota e si prende la responsabilità delle cose che dice vota o non vota o vota contrarie che poi si debba discuterne e si debba dare a tutti possibilità di conoscere le cose anzi dobbiamo è il nostro dovere questo sì che si debba concertare non saremmo noi a far rappresentarli nessuno non il sindaco su questo non mi si trova d'accordo il resto dell'idea che un confronto in Consiglio Comunale con una convocazione di una dunanza aperta che prevede appunto la possibilità di fare intervenire tutti i portatori di interesse tutti sia assolutamente importante al netto che le decisioni le prende il Consiglio tant'è che il regolamento dice questo non votano poi le persone che vengono a intervenire dall'adunanza aperta votano poi i consiglieri quindi la concertazione magari l'ho interpretata ho interpretato io male ogni consigliere farà poi la sua parte e prenderà le sue decisioni vale su questo argomento come per tutti gli altri ma visto che parliamo di adunanza aperta il regolamento è chiaro alla fine possono parlare tutti i soggetti invitati che concordiamo assieme e non è un auspicio lo ribadisco concordiamo molto volentieri assieme perché è giusto che sia così anche se il regolamento questo non lo dice dice che decide la giunta ve l'ho proposto io ieri sarebbe stato ripeto un agreement una cosa carina normale gentile in un rapporto di fiducia reciproca riconoscerlo ma va bene lo stesso dice che poi votano se si vota qualcosa a valle dell'adunanza votano solo i consiglieri quindi vi chiederei di attenerci a quello che è il compito istituzionale che ha ognuno di noi ovvero quello di prendere delle decisioni in un senso o nell'altro ma lo facciamo noi perché ci hanno votato tutti in maggioranza in opposizione per essere per rappresentare gli interessi della popolazione lo facciamo tutti ognuno con la nostra coscienza e confrontandoci con chi vogliamo legittimamente nella più totale democrazia detto questo non possiamo pensare di prendere qualunque decisione dalla più importante alla meno importante consultando tutti i cittadini perché se no non servirebbe il consiglio comunale grazie sindaco Pani per il consiglio di faravotti per intanto questo documento è stato fatto girare oggi per cui è quello che abbiamo già concordato quindi non capisco lo stupore l'auspicio in realtà riguarda sul fatto che senz'altro andremo ad individuare degli interventi programmandoli anche perché come si è detto deve poi invitargli la giunta su questo mi pare che ci siamo già ci siamo già spesi ieri in una in una adunanza aperta adesso però immaginiamo che possano esserci anche altre persone che magari intenderanno aprire un dibattito per cui sarebbe sarebbe positivo magari moderando il Presidente così dare anche spazio a questo pubblico e questo è la posizione di circolamento in un piano gli invitati lo sono ma questo dice il guadagnolo non possiamo parlare cioè volete sia chiaro che non esiste una formula in cui ma in questo in nessun punto in cui il Consiglio Comunale si siede e ascolta tutta la cittadinanza a chiunque voglia parlare senza avere una senza essere ditato tant'è che dicono le qualità risultate le repubbliche le segrete e le donanze aperte la donanza aperte dice chiaramente a dire che sia raggiunta il sindaco il Consiglio perché quello che passiamo sopra è un formalismo minimale e unicolo e unicolo come possiamo intervenire e possono essere invitati a intervenire i consiglieri comunali parlamentari rappresentanti della regione della provincia delle circoscrizioni di altri comuni e delle forze sociali politiche e sindacali interessati ai temi da discutere in tali particolari adunanze il Presidente garantendo la piena e priorità libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale consente interventi dei rappresentanti come sopra invitati perché portino il loro contributo di opinione e di conoscenze e precisino al Consiglio Comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate qualora qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione o un ordine del giorno o la nomina di una commissione del Consiglio sui problemi trattati alle votazioni relative prendono parte solo i consiglieri con esclusione di tutti gli altri presenti ma è normale cioè se pensiamo di fare e di interpretare questa richiesta dopo che ieri ne abbiamo parlato però e oggi diventa una cosa diversa rispetto a quella che abbiamo concordato ieri quindi l'auspicio diventa mio che si mantenga le parole delle cose che ci diciamo quando ci troviamo in commissione che diventi il mercato dove il Consiglio Comunale diventi un mercato dove tutti possono intervenire parlare interrogare chi vogliono non è questa la sede non è un Consiglio Comunale la sede per fare queste cose allora si chieda un incontro pubblico è una cosa totalmente diversa fuori dalla sede del Consiglio Comunale votiamo quello anziché questo ma è una cosa diversa grazie Sindaco Pane c'è il Vice Sindaco Borgia che vuole intervenire prego solo per dire questo credo che il principio della rappresentanza che è espresso bene in quell'articolo voglia appunto dire che i rappresentanti delle forze sociali dei comitati delle associazioni rappresentano e parlano in nome per conto di e pertanto è questo il senso all'interno del Consiglio Comunale sono invitati coloro che rappresentano un certo numero di cittadini che si sono accorpati a quel genere di associazione di comitato o quant'altro quindi sarà una persona sola ad evitare quindi poi appunto l'anarchia a portare le istanze e a rappresentarle all'interno di questo Consiglio così come noi portiamo quelle della maggioranza voi quelle della minoranza gli invitati porteranno quelle dei cittadini che rappresentano perché questo è il principio che regola normalmente le sedute istituzionali se poi siamo fuori da quel principio e quindi si fanno altro genere di sedute di raduni o di adunanze a cui naturalmente possiamo partecipare ma non all'interno del Consiglio Comunale mi permetto di dire solo questo che è un principio fondamentale un principio base ecco dico questo tant'è che è espresso nel regolamento quindi quelli che interverranno porteranno le istanze di colore che rappresentano altrimenti non sarebbero rappresentanti di alcun che interverrebbero per conto loro ma questo regolamento non lo prevede grazie Vice Sindaco Borgia prego Consiglio Ferrarotti ma la proposta era un auspicio andava ovviamente oltre gli invitati che andremo a concordare e ovviamente noi non andiamo a disciplinare un'adunanza pubblica o quant'altro questo siamo in Consiglio immaginando un tema di interesse così tanto strategico era quello che si potesse comunque anche se per interventi brevi permettere altri portatori di interesse che non saranno individuati da qui a qualche giorno una loro testimonianza questo era l'auspicio la precisazione prego capogruppo di maggioranza d'Anna mi son perso qualcosa tra ieri e oggi chiedo domanda ieri mi sembra che abbiamo concordato certe cose era stato detto quasi tutto stasera trovo versioni completamente differenti da quello che abbiamo detto io ho capito male io avete capito cioè provo io a fare una sintesi però mi sembra che il sindaco abbia già detto qualcosa però siamo confrontati ieri sulla proposta e su tutto sono state concordate anche le modalità eccetera la cosa che ha tratto diciamo un attimo movimento dal consiglio è stato l'auspicio del consiglio a poter far intervenire anche altre persone io capisco l'interesse dell'argomento che è un argomento davvero di rilevanza e di divisione perché capisco che un argomento del genere provoca rilevanza e divisione però come già accennato come già spiegato bene dal vice sindaco Borgia interverranno persone che rappresentano già grande fetta della popolazione o grande fetta di chi può pensare in un determinato modo a favore o contro del deposito quindi io credo che non sia la sede opportuna solo per il fatto che c'è già chi potrebbe rappresentare le idee della varia popolazione se servisse un confronto pubblico ulteriore non è quella la sede opportuna la sintesi secondo me è questa poi dato che ci siamo già espressi a chiaramente chi ha proposto il punto sarà sicuramente a favore noi come maggioranza ci siamo espressi chiaramente a favore perché è un tema che va condiviso io passerei alla votazione una cosa certo certo solo una cosa per andare oltre tra l'altro diciamo che l'equità e la rappresentatività delle persone che parteciperanno è garantita anche dal fatto che come ha detto prima il sindaco è la condivisione degli inviti che è una concessione che fa la giunta proprio perché il tema è divisivo perché il regolamento dice che gli inviti li fa la giunta abbiamo ieri stabilito perché ci crediamo e perché è giusto che sia così proprio perché il tema è divisivo che gli inviti vengano fatti anche dalla minoranza e pertanto in rappresentanza eventuale di tutte le istanze che potrebbero portare gruppi di cui fanno parte i cittadini che magari vogliono essere rappresentati e invitati da voi quindi mi sembra che l'equità sia rappresentata anche da questo punto mi permetto di dire l'abbiamo condiviso ieri sera ne abbiamo parlato lungamente quindi credo che grazie passiamo alla votazione del testo favorevoli unanimità ringrazio tutti per aver ascoltato il consiglio comunale chi in presenza e chi da casa colgo l'occasione per augurare a nome di tutto il consiglio comunale chiaramente un buon fine anno e soprattutto un buon inizio dell'anno prossimo grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti